Si festeggiano i 26 anni con i Sindaco, con Tartine, con la pasta con Zissalmi. Avete preparato di tutto oggi? Di tutto e di più, anzi oggi abbiamo preparato anche i Wüster perché abbiamo la nostra nuova creazione da 15 giorni e oggi festeggiamo così, inauguriamo i nostri Wüster e facciamo assaggiare. Non perché li facciamo noi, ma sono veramente fantastici. Ma come sono fatti questi Wüster? I Wüster sono fatti solo con l'ottima carne di prosciutto. Praticamente uso le parti anatomiche più pregiate del maiale ed escono dei Wüster eccezionali. Quindi oggi in degustazione e poi c'è tutto il resto, la tagliata c'è però. Sì, la tagliata quella c'è sempre, il nostro cavallo di battaglia. Siamo qua a proporla e a festeggiare con tutti i nostri 26 anni. Un bel traguardo, dai. Molto, speriamo di averne altri 26 davanti. Sono comunque moltissimi anni che loro si impegnano e hanno anche tantissime persone all'interno della loro ditta e questo qua non è una cosa scontata. Loro hanno lavorato molto anche durante il lockdown, sono stati anche un valore aggiunto per la comunità, insomma. Assolutamente sì, quando c'è stato questo Covid loro sono stati subito pronti a essere utili a tutti. Abbiamo visto chi erano qua, comunque tanti, a portare la spesa anche nelle case. Quindi diciamo che è un servizio quasi comunque pubblico quello che loro comunque fanno e questo qua per noi è un ottimo motivo di vanto. Siamo davvero onorati di avere RV all'interno del nostro territorio comunale in quanto è un'attività sicuramente importante e degna di nota con il quale stiamo cercando di collaborare soprattutto per un alimento che accomuna tutti i bresciani che è il salame, cercando di integrarlo proprio nel nostro paese in quanto il prodotto sarà probabilmente con l'attività DECO che è denominazione comunale. Quindi sarà un salame di Montirone? Esattamente, esattamente. Proprio cerchiamo di rendere il prodotto per Antonomasi a Bresciano di renderlo il più montironese possibile.